La passione amorosa può raggiungere delle vette solitamente inespugnate da altre emozioni, perché costituisce un universo atipico, un universo forte e dotato di poteri pressoché magici. Gli amanti consumano l'ardore dei loro sentimenti protetti da una dimensione di clandestinità, quasi a volersi proteggere dagli attacchi invidiosi provenienti dal mondo esterno. Non dirado infatti la presenza di una coppia affiatata è vissuta dal collettivo come una potenziale minaccia, è vissuta come una sfida se non addirittura come un affronto. A ben vedere non si tratta di timori e paure ingiustificate, infatti la diade amorosa può trasformarsi in una sorta di associazione a delinquere, pericolosa perché costituita da elementi affiatati, e mossi dai medesimi intenti. Perciò, scevra da ogni senso etico e sgravata dal peso dei divieti e dai falsi moralismi, la coppia degli amanti si pone al di là del bene e del male. La sospensione della temporalità che viviamo nel rapporto passionale ci permette di trastullarci nell'abbraccio del nulla, pervasi dal senso dell'illimitato e dalla convinzione di essere invincibili. Nella sua autonomia narcisista questa condizione non richiede ulteriori conferme esterne e si rafforza giorno dopo giorno, nutrendosi esclusivamente del sentimento. Questo genere di esperienze offre livelli di gratificazione così elevati da generare una vera e propria dipendenza fisica e psicologica in chi appunto la vive. Ma, a questo punto arriva fatalmente il nostro maa, quando per un motivo o per un altro questa fusione subisce un'inversione di rotta e l'incantesimo appare infranto per sempre, le persone precipitano in uno stato di sofferenza inimmaginabile. La fine di un legame viene sempre vissuta come una ingiustificabile svuotamento di significati e all'improvviso ci sentiamo storditi e confusi. È come se si venisse bruscamente restituiti ad una quotidianità tanto opprimente e frustrante quanto più intensa è stata la passione. Ora, sebbene la vita ci sottoponga ogni giorno a prove durissime e ci proponga senza mai stancarsi esperienze di separazione e di differenziazione, la perdita o l'allontanamento della persona amata appaiono ai nostri occhi come delle croci troppo grandi per essere sopportate. Soprattutto quando si subisce un tradimento e può risultare molto difficile reagire in quanto la rottura dell'equilibrio vissuto fino a quel momento risulta destabilizzante e annichilente. Essere traditi dalla persona che amiamo implica la perdita dei nostri punti di riferimento e il dolore e l'umiliazione che proviamo mettono a nudo la nostra anima rendendola vulnerabile e fragile come mai prima era stata. Nell'amore passionale la presenza dell'altro sembra essenziale per la sopravvivenza del nostro io, che mosso da una fame insaziabile di sostegno e di rassicurazione cerca nell'impeto amorosa la fonte principale del suo nutrimento. La passione, l'ardore, l'intima certezza di essere ricambiati e appoggiati dalla persona che amiamo costituiscono i presupposti della nostra sopravvivenza. Infatti sentiamo di essere vivi solo in presenza dell'altro, solo in virtù della passione che ci unisce alla persona amata. L'innamorato abdica a se stesso ma in questo modo seppur inconsapevolmente si espone ad un rischio grandissimo che è quello dell'autodistruzione. La pericolosità di questa situazione emerge con prepotenza quando l'altro ci abbandona e ci tradisce. Quindi si sottrae al nostro amore lasciandoci soli e privati di ogni energia e di ogni forza. Il crollo delle illusioni amorose è sempre devastante perché alimenta il fantasma della solitudine, lo spettro della sfiducia verso noi stessi e verso le persone che ci circondano. La vita di coppia è per antonomasia esposta a questo genere di rischi. Infatti nel sentimento amoroso si annida sempre il virus della sofferenza, un virus micidiale che può prendere il sopravvento quando meno ce lo aspettiamo e ci può annientare. Per questa ragione possiamo affermare che occorre molto più coraggio a vivere in coppia di quanto ne occorra a vivere da soli. Per molte persone scegliere la solitudine significa tentare di proteggersi dalla sofferenza e quindi dalla disintegrazione psichica e fisica a cui il tradimento, l'abbandono e la perdita della persona amata, potrebbero esporci. Ma se è vero che la vita di coppia ci espone al rischio di soffrire, è purtroppo anche vero che il tradimento è sempre in agguato. Ovunque sia presente una relazione tra individui, di qualunque natura essa sia, incombe il rischio di essere traditi. Tutto ciò appartiene alla dialettica dell'esistenza. Molte sono le possibilità di confrontarsi con il tradimento, ma, il secondo ma, tentare di sfuggire alla sua morsa equivale a rinunciare a vivere. Bene, come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube per essere informati sui nuovi video. Potete trovarmi anche su Facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo Psicoterapeuti dell'Anima e ho creato una pagina chiamata La Mia Psicologia. Ho un sito che è www.robertoruga.it. Infine vi informo che faccio consulenze psicologiche con la videochiamata oppure consulenze telefoniche, per cui potete contattarmi su WhatsApp al numero 338 16 92 473 per richiedere una consulenza specificando il nome, il cognome e gli orari preferiti. In bocca al lupo.